amici ora vi faccio vedere che comprato a chilometri zero vicino a me c'è un bello negozetto a chilometri zero che io quando finisco lavoro e vado la e ora mi piace tantissimo e vado a comprare questi pomodori un po misti così da noi costano due euro ha detto tutti anche san marzano zucchini zucchini straordinari perché ieri già fatto provato questa cipolla comprato che mi piace tantissimo fresca questi cetrioli non devono mancare perché si vede che proprio freschi teneri lunghi guardate come bellezza lunghi e qualità è questa qualità è questa che mi ha regalato odori lui ma soprattutto sono andata a prendere questi perché questi prugne ma come buoni 250 questi prugne ma sembra da da campagna ma straordinario profumo perché qui guardate questo io ho già ieri comprato ieri comprato un chilo assaggiato e mi piace tanto ora voglio qui due chili comprato un sacchetto due chili totale speso 16 50 totale tutto totale e voglio lui ha detto che questi prugne ancora appena cominciati perché io volevo fare marmellettina di questa viene marmellata straordinaria però ci vogliono più maturi lui ha detto fra dieci giorni cominciano ancora saranno ancora più maturi e voglio prendere un po di più ecco succhini ieri comprato da loro questi succhini ora mangiamo io cuscino sempre ora prendo forchetta prendo forchetta e voglio assaggiare voglio assaggiare perché ora mangiamo a pranzo forse fatto cuocere troppo voglio mangiare solo questi amici ma questo sapore da orto vero orto questi colgono di notte colgono di mattina alle 8 già avete a casa vostra mamma mia voglia e per questo ieri comprato ieri comprato e ho capito che sapore straordinario oggi andato a comprare molto di più voglio fare tanti cinque comprato perché voglio fare tanti tanti cose pasta con pasta si mangia poco ma una volta voglio fare pasta con zucchini torta salata di zucchini frittata di zucchini guardate che meraviglia guardate una cosa indescrivibile com'è bello vi saluto perché ora sarà pranzo dobbiamo mangiare zucchini con chi cosa non lo so importante che ci sono zucchini quando ci sono verdura io già contenta grazie a tutti